Nessuno fa più figli, non ci sono più bambini, ci sono sempre meno giovani che si inseriscono nel mercato del lavoro, nessuno riesce più a sostenere il costo delle pensioni e il costo dell'assistenza sanitaria. Tutto questo è il risultato di decenni di politiche sbagliate basate sulla denatalità. In questo libro il neoministro alla famiglia e alla disabilità Lorenzo Fontana a quattro mani con l'economista Ettore Gotti Tedeschi espone la sua ricetta per cercare di uscire dalla difficile situazione in cui l'Italia si è venuta a trovare in questi ultimi anni. E la sua ricetta qual è? Fare più figli, perché se non facciamo più figli qualcun altro li farà e ci spazzerà via. Avrà ragione? La culla vuota della civiltà all'origine della crisi, edizione Gondolin, prefazione di Matteo Salvini. Grazie a tutti.